Ciao a tutti ed eccoci tornati al format no edit, il format in cui leggo delle brevi storie anche spezzate in più parti come in questo caso, ma la particolarità di questo format è che le storie non vengono editate non viene fatto nessun taglio, se ci sono degli errori vengono corretti in corso d'opera e oggi andiamo con la seconda parte del racconto, un triste ultimo amore allo snack dei dannati di Edward Bryant se avete già ascoltato la prima parte e vi consiglio di sì, altrimenti non capirete molto del racconto che diversamente lo scoltereste da metà in poi e sarebbe imbarazzante ho da fare un piccolo appunto, non ho memorizzato le voci dei personaggi quindi perdonatemi se qualche timbro dovesse cambiare buon ascolto Bobby Mac accompagnò a casa Marta facendo il giro più lungo probabilmente farei meglio a risparmiare la benzina, non so fino a quando le cisterne continueranno ad arrivare ma non voglio considerare ancora chiusa la serata neanch'io, disse Marta la samurai aveva sedili separati ma lei fece del suo meglio per appoggiarli la testa sulla spalla si diressero a sud, quasi fino al confine con il New Mexico fermandosi di colpo e tornando indietro quando videro i lampeggiatori della polizia e le fiamme di qualcosa che bruciava in mezzo alla strada e la nostra polizia di stato o la loro? io sono fuori servizio, immagino che abbiano una situazione sotto controllo qualunque cosa sia successa quei ragazzi hanno un bel volume di fuoco tornarono verso nord girando a sud di Fort Durham per la strada che saliva fra le colline a ovest della città due fari, uno dei quali fuori allinamento e troppo forte, li tallonavano Bobby Mac strizzò gli occhi fissando il bagliore nello specchietto poi, a un tornante, accostò al lato della strada per lasciar passare l'altro veicolo un camion Ford nero li superò con un ruggito sembrava Billy Gaspar cosa diavolo starà facendo quassù? il rumore del camion si allontanò rimasero sulla samurai e ammirarono le luci sparse di Fort Durham sotto di loro di notte sembra più grande molte cose danno la stessa impressione forse è per questo che molti trovano pauroso il buio quando ero bambino d'estate mi svegliavo sempre verso le tre le quattro di mattina avevo regolato una specie di sveglia mentale poi uscivo di nascosto ed esploravo i dintorni del ranch le cose più grandi erano le mucche da latte se ne stavano immobili sotto la luna grandi e calde e silenziose Marta lo sbirciò di sottecchi allora non c'erano gli zombie non qui almeno credo però che i primi ci fossero già in Giamaica o da quelle parti la radio dice che non sono la stessa cosa l'altro giorno ascoltavo un dibattito alla NPR ascolti queste cose la radio lui sembrò sorpreso e al tempo stesso compiaciuto anch'io non sono stupida Bobby Mac sì ascoltavo la NPR avevano in studio un prete voodoo che se la prendeva come un matto perché la sua gente veniva incolpata per gli zombie beh e lui chi voleva incolpare? Marta si rannicchiò sul suo sedile non voglio parlare di zombie per un po' sarà l'unica cosa di cui tutti vorranno parlare è l'evento più straordinario che sia successo in questa città da non so nemmeno quando trascorse un lungo minuto Bobby Mac pensi mai di andartene da qui? ad andartene da qualche altra parte? l'ho già fatto sono andato all'università di Durango 300 km non sono una grande distanza tu non hai parlato di distanza hai capito perfettamente quello che volevo dire non so se mi piacerebbe un altro posto capisco cosa vuoi dire ma a volte mi chiedo che effetto farebbe scoprirlo di persona andare da sola in California o da qualche altra parte servirebbe solo ad aumentare la solitudine cià io mi sento sola anche qui lui sembrò sorpreso sei sempre stata la ragazza più graziosa di tutta la città ti senti sola? non ne sai molto sul mio conto vero? forse avevo paura di quello che avrei scoperto non c'è motivo di averne paura Marta gli sfiorò dolcemente la guancia nessun motivo lui fece il gesto di alzare le spalle come ti ho detto ho sentito voci disse lui erano tutte false lui le sfiorò i capelli il viso, le labbra devo rifletterci sopra sul serio? disse lei guardandolo fisso al chiarore del cruscotto sì lei gli sfiorò la guancia con le labbra può darsi che non rimanga molto tempo questo cosa vorrebbe dire? non lo so solo una sensazione in un modo o nell'altro ci sarà tempo si sporse in avanti e accese i fari sarà meglio che ti porti a casa non vorrei che i tuoi stessero in pensiero bobby mac almeno un abbraccio un bacio lui annui poi l'abbracciò e la baciò e la ricondusse a casa che strano disse Marta quando entrarono nel cortile dei malincoschi sei chilometri a nord della città cosa? bobby mac fermò la samurai accanto alla casa e spense i fari la luce del cortile è spenta papà ha cambiato la lampadina solo la settimana scorsa forse l'ha spenta lui non lo fa mai quando pensa che potrei tornare tardi forse credeva che sarei tornata subito dopo l'assemblea non aver paura sei con il vice sceriffo ricordi? ricordo Marta scese dalla samurai bobby mac girò intorno al muso della macchina per accoglierla mancava solo una notte alla nulla nuova e il buio era fitto dammi la mano non ci tengo a rompermi una gamba immagino che tu conosca il terreno sui gradini dell'ingresso Marta cercò la chiave nella borsetta con questa storia degli zombie papà ha deciso di chiudere la chiave tutte le porte di notte trovata la chiave Marta sollevò gli occhi verso di lui buonanotte bobby mac qualunque cosa lui fosse sul punto di dire andò perduta mentre entrambi udivano un suono di passi rapidi e pesanti che facevano scricchiolare la ghiaia dietro di loro una sagoma indistinta si stagliò nell'oscurità mani adunque si allungarono verso di lui cristo santo disse bobby mac cercando di portarsi davanti a Marta e allungando intanto la mano verso la pistola nella fondina delle braccia lo afferrarono da entrambi i lati e lo tennero immobile nella notte la creatura di fronte a lui si avvicinò barcollante e bobby mac sentì il puzzo dell'alcol buonasera vice sceriffo era berti hernandez ehi amico è tutto a posto non temere la voce di billy gaspara all'orecchio di bobby mac volevamo solo evitare che sparassi a qualcuno lasciò libero il braccio al destro di bobby mac qualcun altro gli lasciò libero il sinistro razza di bastardi cosa ci fate qui solo un controllo siamo i sorveglianti della morale pubblica proprio come a scuola vogliamo essere certi che i pomicioni non si spingano troppo oltre capisci bobby mac disse ad irato dovrei dovresti cosa saputello solo uno scherzo innocuo berti si allontanò con passo pesante solo uno scherzo innocuo ok ragazzi andiamo bobby mac fece perseguirlo ma marta lo prese per un braccio no bobby mac non è questo il momento berti e gli altri ridevano a crepapelle quando si ammucchiarono sul camion nero di billy gaspar lo avevano parcheggiato dietro l'angolo della casa billy pigiò sull'acceleratore e il camion si lanciò verso l'asfalto la notte inghiottì le risate bobby mac e marta rimasero a fissare in quella direzione il vice sceriffo si accorse di avere ancora le dita intorno al fermo della fondina staccò la mano la luce del cortile si accese inondando l'intera aria con il chiarore di una lampada a vapore di mercurio il signor malinoschi comparve sulla soglia di casa sbadigliando e stropicciandosi gli occhi ehi ragazzi che diavolo sta succedendo con dentro c'è gente che cerca di dormire marta e bobby mac si scambiarono un'occhiata lei gli sfiorò le labbra con le dita ci vediamo allo snack la mattina dopo le chiacchiere allo snack erano imperniate su due argomenti il football e gli zombie la partita di precampionato fra i broncos di denver e i seahawks di seahawks di seahawks era stata annullata appena prima del calcio d'inizio circolavano voci di atrocità commesse negli spogliatoi e di giocatori semidivorati devono essere stati i zombie di seahawks disse cupo shine willis era l'unico modo per poter battere i broncos nessuno lo contraddisse ok signor sottutto disse berti ascolta ho una domandina per te tutti ascoltarono specialmente shine gli animali possono morderti e trasformarti in uno zombie vuoi dire cani farsi mordere da un cugio che mi venga un colpo se lo so nessuno lo sapeva ma tutti avevano un'opinione in proposito me lo chiedevo perché questa mattina quando sono uscito dalla roulotte il bastardo dei jergenson ha cercato di aggredirmi e ho dovuto stenderlo sembrava fosse già morto da un paio di giorni billy gaspara sunse un'espressione tetra cristo ci mancava solamente che anche le bestie se la prendessero con noi io non mi preoccuperei il cane dei jergenson era sempre incazzato con il mondo intero probabilmente non gli è andata genio la tua faccia ti eri fatto la doccia questa mattina gli uomini lungo il banco risero un po' nervosamente pensò Marta lei intanto smistava i piatti di frittelle uova patate bacon e pane tostato versava il caffè quello vero nessuno da quelle parti beveva decaffeinato una mano ruvida le afferrò il polso il bricco del caffè oscillò per me basta sto cercando di berne meno lasciami andare disse lei lui non si mosse lei rimase ad aspettare un quadretto silenzioso gli altri li fissarono poi ripresero a chiacchierare ma le occhiate continuavano a spostarsi furtive verso Marta e Berti ieri sera mi sono fermato a bere con Carl Crump fino a tardi racconta cose molto interessanti ne dubito ora lasciami andare no dice che hai un piccolo segno sotto la tettina sinistra sembra un uccello è vero no Marta passò il brico fumante del caffè nella mano destra adesso lasciami andare o ti rompo questo in testa nel silenzio improvviso la radio che suonava I don't even try di John Hyatt sembrò eccheggiare troppo alta gli uomini al banco non finsero più di guardare da un'altra parte dal momento che sembri così ben disposta verso Bobby Mac disse Berti come mai non vuoi fare niente con me Carl è un bugiardo Berti la guardò fisso negli occhi certo e le lasciò libero il polso magari stasera potremo andare a Walsenburg lei parlò senza rendersi conto di quello che diceva preferirei scopare con uno zombie lo disse a voce talmente bassa che nessuno la sentì all'infuori di Berti lui continuò a fissarla Marta si girò e tornò verso la cucina cercando di muoversi con naturalezza e senza scatti nervosi non appena al riparo dagli sguardi dei clienti si asciugò due lacrime appena spuntate sentì un dolore bruciante il polso lo voltò e vide i segni bluastri sulla pelle sembravano le ali di un uccello Bobby Mac non si fece vivo allo snack per il suo caffè di metà mattino verso le undici Marta diede una voce a Henry Roybal ehi cosa dice il tuo baracchino cosa succede là fuori nessuno parla di Bobby Mac nemmeno una parola sul tuo giovanotto Marta però c'è parecchio altra roba lei trasportò in cucina in equilibrio su una mano sola un vassoio carico di piatti sporchi e diposate José il lavapiatti lo prese e lo scaricò con un grugnito in un lavandino d'acciaio pieno di acqua saponata cosa vuoi dire parecchia altra roba non so cosa sia davvero un sacco di messaggi in codice come quando sanno che c'è gente in ascolto e lo sceriffo non vuole far sapere nulla in giro quasi interpellata la radio sintonizzata sulla frequenza della polizia trasmise qualche scarica e subito dopo una chiamata centrale sceriffo qui patuglia 3 parlate patuglia 3 ehi affermativo Kenny e io confermiamo branco di vegetali appena oltre 1 o 5 di Contea il Centennial Ditch devono essere rimasti nascosti nella prima chiesa battista stiamo per entrare in azione come da ordini ricevuti vegetali disse Marta Henry Roybal a noi è tutta la mattina che ne parlano la radio lanciò un'altra scarica patuglia 3 non fate di ozie centrale potete mandarci rinforzi negativo patuglia 3 le acque sono agitate in tutta la Contea va bene centrale faremo il possibile ho il mio vecchio Kalashinov a K47 nel bagagliaio sui Charlie funzionava penso che metterò una fila o due di vegetali mio dio ripeto patuglia 3 procedete con cautela abbiamo già perduto un paio di mietitori questa mattina la radio rimase silenziosa poi la voce della patuglia 3 disse lo sappiamo centrale questo dovrebbe pareggiare il conto per Dale e JB Henry Roybal esalò un lungo respiro Marta lo guardò sapevano tutti e due perfettamente di chi stava parlando la voce due poliziotti del posto anche loro non si erano fatti vivi per il caffè Bobby Mac pensò lei fissando la radio di qualcosa fai rapporto ti prego ehi centrale ci sono dei civili dietro di noi il reverendo Bicham con degli altri ci fu una pausa poi la voce si fece più debole come se chi era l'apparecchio avesse sporto la testa dal finestrino ehi pastore vi serve aiuto è arrivata la cavalleria un grido strozzato filtrò attraverso la radio una seconda voce urlò centrale sono vegetali anche una serie di spari un altro grido rumori indistinguibili poi un suono raschiante come se qualcuno stesse masticando il microfono silenzio pattuglia 3 cosa succede fate rapporto pattuglia 3 Marta uscì di corsa dalla cucina cercando di ricacciare indietro i suoni provenienti dalla radio Bobby Mac almeno lui non era nella pattuglia 3 la radio sopra la cassa suonava Long Black Veil di Nick Cave perché non trasmetti qualche notizia le gridò Marta il sindaco Ernesti cerca di evitare il panico disse Berti Hernandez lui e i suoi compari dovevano essere rientrati nello snack da un paio di minuti si erano portati dietro un po' della neve sottile che ricopriva il parcheggio sulle piastrelle del pavimento c'erano chiazze di acqua scura io credo di essere ormai pronta per il panico disse candidamente Marta voglio sapere cosa sta succedendo non preoccuparti dolcezza disse Berti se dovesse succedere qualcosa ti proteggeremo noi questa mattina non avete visto in giro Bobby Mac vero Berti e Shine Willis si scambiarono un'occhiata non di recente è un ragazzo in gamba starà senz'altro bene ma avrà molto da fare non lo vedrai prima di stasera ma cosa succede là fuori per tutti i santi volete dirmelo sono gli zombie disse Billy Gaspar si diffondono più in fretta dell'AIDS già sembra che basti un morso non c'è bisogno di finire ammazzati quei bastardi sono già in tutta la città hanno preso un mucchio di gente che conosciamo tutti e due ne abbiamo uccisi parecchi disse Billy Gaspar ma sono troppi adesso dobbiamo starcene al riparo e riposare lo snack è un posto buono come un altro e poi credo che ci farà bene mangiare qualcosa qual è il piatto del giorno polpettone non credo che la mia pancia possa reggerlo mangiare o essere mangiati qui è la KIP la voce country dell'impero del colorado meridionale da Pueblo a Durango noi vi portiamo le notizie più recenti disse la radio dacci un taglio dimmi soltanto cosa sta succedendo l'introduzione registrata si affievolì e vi fu un attimo di silenzio quando l'annunciatore parlò lo fece con voce stanca e quasi terrorizzata vi parla Boots Bell dagli studi della KIP a nord di Fort Durham devo leggervi tutta una serie di comunicati della massima importanza quindi farete meglio ad ascoltare attentamente ti stiamo ascoltando coglione disse Berti Hernandez con tono non meno teso di Marta avanti parla i ragazzi non erano usciti spesso quel pomeriggio erano rimasti nei dintorni dello snack portando dentro armi dai loro camioncini e bevendo litri di birra era arrivato anche qualche altro cliente abituale c'era pochissimo traffico sulla 159 Boots Bell fece frusciare dei fogli poi disse il consiglio più importante è restare al coperto sbarrate tutte le porte e finestre di casa se qualcuno si presentasse alla porta controllatelo bene tutt'a un tratto ci sono morti che camminano ovunque non è uno scherzo non è un'esercitazione dei sistemi di trasmissione d'emergenza nulla del genere una cosa reale maledettamente vero disse Shine Willis se avete armi tenete le cariche a portata di mano sparate alla testa è l'unico modo per uccidere uno zombie ehi è il fuoco oppure bruciateli ricordate che sono molto più svelti di quanto possano sembrare e molto forti di solito girano in branchi se ne vedete uno probabilmente ce ne sono altri diegi che cercano di attaccarvi alle spalle José lasciò cadere un tegame in cucina e metà dei tipi al banco sobalzò Bell continuò qui alla radio abbiamo ricevuto l'assicurazione che la guardia nazionale interverrà non appena avrà terminato di ripulire Waselborg comunque prima dovranno ripulire Springs quanto a Denver beh non abbiamo molte notizie in proposito altri fogli frusciarono per qualche secondo qui alla keep stiamo tenendo aggiornata una mappa di tutti gli avvistamenti quindi se vedete uno zombie fateci uno squillo e noi inoltreremo la segnalazione in sottofondo si udì un'altra voce indistinguibile poi Bell aggiunse dal numero di avvistamenti già ricevuti possiamo avvertirvi che non è igienico restare lo scoperto a Fort Durham l'ufficio dello sceriffo e la polizia fanno quello che possono insieme a gruppi di volontari ma se non dovete uscire per forza restate in casa non uscite per nessuna ragione il direttore mi ha appena detto una cosa e io sono d'accordo con lui se resteremo uniti ne usciremo senza troppi danni tenetelo a mente nello snack gli uomini in possesso di armi le strinsero più saldamente e si scambiarono occhiate silenziose ritorneremo con altre notizie non appena le avremo ora ascoltiamo un po' di musica l'altoparlante vibrò per i primi accordi di Stand By Your Man di Tommy Wynette almeno non trasmettono quei fottuti dei Grateful Dead nota a margine letteralmente i Grateful Dead sono i morti riconoscenti un complesso rock americano di tendenze psichedeliche il gruppo dispone di nutrite schiere di fan che hanno scelto di chiamarsi Deadheads teste di morto o teste morte come peraltro nel successivo racconto di Stephen R. Boyette ma torniamo al racconto cercò di sghignazzare la propria battuta ma l'effetto fu disastroso Marta posò il vassoio sul banco e andò al telefono dietro la cassa fece il numero dei genitori sapendo che naturalmente stavano tutti bene ma desiderosa di una conferma l'unica cosa che ottenne nel ricevitore fu il morbido ronzio di una linea interrotta verso le tre il primo zombie comparve nel parcheggio dello snack era la signora Dorothy Miller capocassiera alla banca degli allevatori cristo santo ammazzatela disse Berti indicando la porta Shine e Billy probabilmente sono come le formiche mandano qualcuno in avanscoperta e noi non vogliamo far sapere a tutti gli altri che qui c'è un sacco di cibo giusto? i due compari annuirono e andarono fuori Shine per primo Billy appoggiò contro la spalla il calcio del suo 30-06 per la caccia al daino e premette lentamente il grilletto la pallottola si piantò netta nell'occhio sinistro della signora Miller lo zombie allargò le braccia e fece un mezzo giro su se stesso avvicinandosi Shine sollevò il suo remington a pompa e fece esplodere la testa della signora Miller Shine e Billy trascinarono il corpo dietro l'angolo dello snack poi tornarono dentro e bevvero un sorso di acquavite casereccia dalla fiasca di Michele Spinosa Marta se ne accorse a malapena continuava ad ascoltare la radio e a tormentare Henry Roybal perché controllasse la stazione centrale dei CB quanto la frequenza della pulizia niente chiedeva durante i suoi spostamenti fra la cucina e la sala niente senti probabilmente Bobby Mac ha troppo da fare per usare la radio cerca di non preoccuparti in sala la Kip stava mandando in onda Wreck of the Edmund Fitzgerald di Gordon Lightfoot merda ma chi sceglie questa musica se almeno Henry avesse un jukebox ma non ce l'ha dovremo divertirci in qualche altro modo accarezzò il fucile steso sulle gambe poi sollevò gli occhi verso Marta e le allungò la sua tazza lei lo fissò per un attimo poi fece per allontanarsi per favore Marta ci ripensò e tornò indietro con il bricco del caffè l'espressione di Berti sembrava ansiosa ma ascolta Marta se riusciremo a cavarcela tutti non pensi che forse potremmo ricominciare da capo no lei dovette resistere all'impulso di scoppiare a ridere istericamente non possiamo ricominciare quello che non abbiamo mai iniziato qualcosa sembrava covare sotto la cenere negli occhi di Berti adesso sono pronto a comportarmi come si deve lo so ma io sono onesta con te anch'io lo sono voglio che tu sia la mia ragazza lei scossa il capo e l'ultima parola minaccioso pensò Marta sembra deciso a fare qualcosa a noi sempre con calma sì beh al diavolo l'unica cosa che mi rimane da fare è scoparti finché non riuscirai più a vedere dritto o a camminare dritto provaci e ti ammazzo così io tornerò indietro e continuerò a scoparti scommetto che non serve a niente mollare un calcio nelle palle uno zombie tu che ne pensi penso che sei disgustoso Marta strinse con decisione il manico del brico la tentazione di bruciargli il viso fino a farlo sembrare quello lacerato e putrefatto di uno zombie irresistibile si allontanò aspetterò quando avrai smesso di aspettare Bobby Mac io sarò sempre qui saldo e duro so aspettare anch'io non per il tempo che ci metterà il tuo vice sceriffo tu che ne sai Berti si leccò stentantamente le labbra verso le sei cominciò a fare buio Henry Roybal uscì dalla cucina e accese l'insegna qui si mangia credi che sia una buona idea disse Shine pensi che gli zombie sappiano leggere quando erano vivi sapevano farlo sono animali bestie e scommetto che non vedo nemmeno i colori la discussione morì lì il neon sul tetto sfrigolava e scoppiettava il chiarore sulla neve davanti alla vetrata variava dal rosso al verde forse dovremo tentare una sortita scappare verso il New Mexico disse Michele Spinosa dubito che laggiù le cose siano diverse disse Berti tanto vale restare dove abbiamo da mangiare davvero in abbondanza strizzò l'occhio a Marta e dove c'è una bella signora ho il serbatoio del camion pieno disse Billy a Miguel e tu perché non te ne vai disse Berti a Henry il proprietario dello snack rispose senza esitazioni mio padre si è fermato qui a Fort Durham mentre era diretto in California nel 30 gli piaceva questo posto anche a me piace sono rimasto qui durante le inondazioni siccità tormenta di neve tornato non ho intenzione di farmi scacciare da un branco di figli di puttana cannibali a intervalli la radio ripeteva i comunicati del primo pomeriggio sembravano esserci pochi sviluppi gli avvertimenti continuavano restate in casa sbarrate le porte caricate le armi mirate la testa finalmente Boots Bell ne aggiunse uno nuovo conservate una pallottola per voi gli uomini nello snack parlavano e bevevano Berti Hernandez pensò soltanto a bere verso le 8 dopo ogni bicchiere di tequila si sciacquava la bocca con il mescale invece che con una birra Shine Willis gli andava a ruota quando l'orologio am accanto la radio segnò le 9 e 7 Berti lanciò il suo bicchiere contro la parete di fronte si frantumò sotto la testa impagliata del magnifico cervo che il padre di Henry aveva battuto ai tempi di Pearl Harbor credo disse a Marta con orribile ghigno che sia arrivato il momento di divertirci sul serio Miguel e Shine si erano spostati ai lati di Marta lei li guardò poi tornò a fissare Berti lui si alzò e giocarellò per un attimo con la fibbia della sua cintura Peterbilt quello che mi propongo è di scopare questa figliola finché il mio uccello ce la farà restare dritto qualcuno dei presenti vuole sollevare obiezioni non posso lasciartelo fare Berti disse Henry Roybal lo immaginavo sei un brav'uomo Henry Berti estrasse la 357 magnum dalla fondina e spedì una pallottola nel cuore di Henry Roybal l'impatto scagliò il vecchio contro la porta girevole della cucina la porta si spalancò quando il corpo cadde all'indietro poi si richiuse ma adesso era sporca di sangue nessun altro disse Berti osservando gli uomini silenziosi nessuno aprì bocca non tutti sembravano entusiasti dell'idea ma non vennero sollevate obiezioni intesi allora Berti posò la pistola sul tavolo poi si chinò e grugnì togliendosi gli stivali infine si slacciò la cintura Marta tentò la fuga non fu abbastanza svelta per sfuggire alla presa di Shine si divincolò cercando di mollargli i calci morderlo fargli lo sgambetto Miguel la colpì la nuca e lei si afflosciò sentì Berti dire vediamo un po' di passera sentì mani che le strapavano sull'avanti il vestito marrone da cameriera senza badare i bottoni dita ruvide le artigliarono il collante e glielo arrotolarono lungo i fianchi giù per le gambe fino ai piedi Marta aprì gli occhi e fissò Berti con odio si era tolto pantaloni e slip e ora la sovrastava con addosso la camicia blu da lavoro e i calzini notò di colpo che i calzini erano leggermente spaiati uno nero e l'altro blu scuro Berti non farlo lui sorrise quasi allegro strofinandosi i testicoli il suo pene spiccava lungo ed eretto come una gru in apparenza tutto l'alcol bevuto non aveva intaccato la sua erezione Marta devo farlo si sputò su una mano e si inumidì il glande lo sai cosa sta succedendo là fuori può essere la tua ultima possibilità lei non trovò le parole per rispondergli in modo adeguato Berti sorrise oh non perdere tempo a sognare un salvataggio all'ultimo istante del buon vecchio Bobby Mac Quintana finalmente lei si decise ad affrontare ciò che già sospettava ciò che non aveva nemmeno voluto pensare cercando di apparire calma disse cosa gli hai fatto non è quello che gli ho fatto io disse Berti avanzando fino a fermarsi fra le sue gambe divaricate caso mai è quello che gli ha fatto il Doberman dei Giegerson io l'ho soltanto liberato dalle sue sofferenze è stato un favore avrei fatto lo stesso per un cane Marta sentì le lacrime farsi avanti e le respinse non c'era tempo improvvisamente la radio sembrò farsi più forte come se il suono le venisse trasmesso direttamente nelle orecchie la kip stava suonando poor poor pitiful me stronzate Marta inarcò la schiena alzando di scatto la gamba destra verso l'inguine di Berti lui si girò con inattesa rapidità assorbendo il colpo con la coscia le posò un piede sulla caviglia sinistra Shine le afferrò la destra Miguel ridacchiò accanto alla sua testa esprimi un desiderio non c'è gratitudine in questa passera disse Berti con tono discorsivo ma vedremo fra poco fece per inginocchiarsi fra le sue gambe quando Bobby Mac Quintana entrò dalla porta principale non la aprì entrò sfondandola con uno scroscio di vetri infranti e fra le urla degli uomini lungo il banco cosa cazzo disse Berti balzando in piedi tuffandosi verso la magnum sul tavolo fra urla e bestemmie tutti cercavano di togliersi dalla strada di Bobby Mac lui si fermò là per un istante e Marta vide che non era vivo indossava la sua uniforme ma era senza cappello la camicia cachi era incrostata di sangue secco che doveva essere sgorgato molte ore prima dalla spaventosa lacerazione alla gola sul petto c'erano tre buchi neri dove erano penetrate pallottole di grosso calibro una quarta pallottola lo aveva colpito al viso aprendogli una guancia e spostandogli il naso di sbieco la decomposizione era già iniziata la carne intorno alla bocca sembrava granulosa i fluidi che uscivano dalle ferite al viso luccicavano al chiarore delle lampade a fluorescenza Cristo Bobby Mac disse Berti impugnando la sua pistola con mani tremanti quante volte devo ucciderti la fiammata e la detonazione si proiettarono verso Bobby Mac facendolo vacillare l'indietro ma senza batterlo lo zombie si girò leggermente per guardare Marta ancora sul pavimento la sua bocca si aprì e in qualche modo un suono riuscì a levarsi gorgogliante dalla gola lacerata Marta Bobby Mac tornò a voltarsi verso Berti avanzando rapido prima che l'altro potesse premere di nuovo il grilletto il vice sceriffo morto afferrò il pene di Berti stringendo saldamente la base turgida e lo scroto con un solo poderoso colpo diede uno strattone verso l'alto e la pelle cedette come stoffa marcia il braccio dello zombie si sollevò mentre l'addome e lo stomaco di Berti si aprivano come se qualcuno avesse strappato la chiusura ermetica di un sacchetto pieno di lasagne le viscere si sparsero per la sala dello snack se Berti urlò la sua voce andò perduta fra il parapiglia di tutti gli altri uomini che cercavano a tentoni le loro armi o si tuffavano verso una porta Berti mulinò le braccia spasmodicamente il sangue schizzò alto fino alle lampade e la luce diventò rossastra di colpo nessuno ormai tratteneva più Marta e lei cercò di rialzarsi Bobby Mac si era rivolto a Shine e a Miguel conficcando le dita nel viso del primo e premendo il secondo contro le lunghe schegge di vetro che sporgevano dall'intelaiatura della porta lo zombie gettò da un lato la faccia di Shine come se fosse stata una maschera di Halloween da scartare e si diresse verso Billy Gaspar non sono stato io sono stati loro sono stati loro Bobby Mac strappò il braccio sinistro a Billy poi gli fracassò la testa con l'arto dai muscoli rigiditi improvvisamente lo snack divenne molto silenzioso ospitava solo Morty e morenti e Marta lei si appoggiò alla cassa mentre Bobby Mac si girava e veniva nella sua direzione restarono l'uno di fronte all'altra e lei fissò nauseata il suo viso mutilato lui allungò una mano a scatti ma le sue dita furono gentili sfiorando le capelli tentò di dire qualcosa ma la gola distrutta non glielo consentì anch'io disse Marta lasciando finalmente libere le lacrime ti amo anch'io poi udile urla da fuori degli uomini stavano morendo nel parcheggio al chiarore del qui si mangia qui si mangia qui si mangia Marta vide superstiti dello snack fatti a pezzi da gruppetti di zombie si girò verso Bobby Mac e gli prese la mano la pelle sembrava allentata come un guanto di cotone troppo largo dobbiamo andarcene da qui vieni lui non si mosse Bobby Mac stava fissando qualcosa dietro di lei lentamente contro voglia anche lei guardò Marta riconobbe quasi tutti i volti alcuni si erano nutiriti di decente brani di carne penzolavano sanguinolenti dagli angoli delle labbra arricciate erano tutti la i suoi incubi Carl Crump padre gli occhi morti infiammati dietro le lenti infrante di un paio di occhiali di tartaruga in equilibrio precario il pastore Beecham con il colletto bianco e la giacca nera macchiati di sangue che sembrava a sua volta nero anche se luccicava umido sotto le lampade lo chignon rosso della signora Beecham era in disordine con riccioli bagnati che le stavano appiccicati intorno alle orecchie il suo vestito grigio tagliaforte era ridotto a brandelli su una spalla la testa di padre sierra era piegata sul collo di almeno 45 gradi sembrava un gufo che fissasse la propria preda Carl Crump figlio allungò una mano verso Marta e Bobby Mecca allontanò da lei le unghie sporche di sangue il giovane Crump indossava una maglietta Maui e un ridicolo paio di calzoncini da spiaggia con disegni floreali starà congelando pensò assurdamente Marta si rese conto di non poter contare tutti gli zombie che si stavano affollando nello snack insegnanti alcuni pompieri volontari bibliotecario della contea il suo medico sembrava che ci fosse metà della popolazione di Fort Dorham Carl Crump figlio gemette qualcosa che Marta non riuscì a capire suo padre si agitò accanto a lui entrambi gli zombie portarono le mani all'inguine come una scena imitazione delle scimmiette non vedo non sento non parlo Marta si accorse che entrambi avevano mostruose erezioni no disse facendosi più vicino a Bobby Mac il vice sceriffo zombie gorgogliò qualcosa e le posò un braccio sulle spalle poi gli altri zombie si lanciarono su di loro non restava molto spazio per gli spostamenti quindi l'avanzata in massa assortì scarsi risultati finché l'impeto da marea dei cadaveri non deviò verso la vetrata dello snack e il cristallo esplose all'esterno del parcheggio Marta si ritrovò distesa sulla schiena con entrambe le mani serrate intorno al collo della signora Beecham per impedire a quei denti da bulldog di affondarle nella gola poi un calcio dello stivale di Bobby Mac colpì la signora Beecham sotto lo sterno e lo zombie fu scaraventato lontano il pugno di Carl Crump padre colpì la bocca di Bobby Mac spaccando i denti e affondando fino al polso Bobby urlò Marta la mano del vecchio Crump riapparve con le dita grondanti sangue e le unghie sporche di cartilagini e materia cerebrale il corpo di Bobby Mac fu colto da sussulti spasmodici le braccia si contorsero ad angoli bizzarri Crump si leccò le unghie la pressione dei cadavere naspanti spinse Marta sulla ghiaia gelata una mano adunca le strappò il regiseno e un pezzo del seno destro sulle prime non sentì dolore solo l'aria fredda sui capezzoli vide un groviglio di capelli tinti con le nè scendere verso il suo ventre sentì le labbra geli della lingua di ghiaccio violare la sua vagina tentò di allontanarsi sulla ghiaia pungente mentre denti i marci li scavavano nella carne il volto della signora Bicham reso viscido dal sangue di Marta continuò ad affondare ripetutamente contro di lei finché il marito non spinse da parte la donna il pastore Bicham la montò mentre Marta gli artigliava gli occhi vacui altre braccia la afferrarono e lei sentì la spalla sinistra torcersi e staccarsi con il braccio destro flagellò i suoi aggressori cercando una presa qualsiasi il pene del pastore la penetrò come una verga di ghiaccio allo zero assoluto poi Karl Kramp figlio le fu addosso facendola rotolare su un fianco e infilandole la sua erezione nell'ano Marta sentì i tessuti lacerarsi questa volta non ci fu uno shock misericordioso faceva male e lei urlò mentre il giovane Karl la spingeva da dietro il movimento sembrò eccitare il pastore Bicham il vecchio si sollevò all'indietro spruzzando bolle di saliva e aria fetida dalle labbra violacee Marta vide così il padre di Karl e gli altri che aspettavano come clienti pazienti in una coda all'ufficio postale il dolore era un'agonia continua che le sfibrava le cellule del cervello risucchiandole nell'infinito siete bannati siete tutti bannati le intrusioni degli altri dentro di lei premevano inesorabilmente verso qualche impercettibile apice dei morti da prima Marta rimase a guardare sempre più distaccata una calma gelida cominciò a narcotizzarla poi si accorse che il cadavere inerte di Bobby Mac era vicino quasi avviluppato nel contorto nodo d'amore che il suo corpo componeva con quelli del pastore Beecham e di Carl Crump figlio con la destra poteva raggiungere la fondina di Bobby Mac i suoi polpastrelli sfiorarono il cuoio freddo ancora lucido di sicuro doveva esserci ancora una cartuccia carica nel tamburo della sua 38 police positive ti prego Carl Crump padre le si sedette quasi sul viso facendo scorrere le dita avanti e indietro lungo la sua erezione paonazza le dita intorpidite di Marta tirarono le falda della fondina Anna sparano sulla chiusura il pulsante scattò sentì il calcio in noce zigrinato della pistola grazie Bobby Mac gli zombie dentro di lei grugnivano e spingevano Marta ne avvertiva altri molti altri che si affollavano intorno a lei occhi morti la fissavano ma nessuno di loro vedeva non avevano mai visto la sua vista cominciò a oscurarsi gli zombie continuavano a venire e a venire mi basta una pallottola pensò Marta c'era c'era wow 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 devo ammettere di essermi impegnato perché mi stava dando il volta stomaco io non so se a voi capita di immaginare le cose che state leggendo o ascoltando a me non sempre a volte riesco a distaccarmi però ci sono delle cose che colpiscono più di altre e questa scena finale è stata davvero pesantuccia però potente fatemi sapere voi come vi sentite com'è il vostro stomaco dopo questo racconto vi ringrazio per aver ascoltato sino a qua e vi saluto passate una buonissima buonissima bellissima giornata e noi ci vediamo o ci ascoltiamo al prossimo episodio di No Edit ciao